che sensazione è un'incomunicabilità totale io faccio i migliori auguri veramente sinceri a tu perché guarisca per la sua famiglia soprattutto e perché ritrovi il lavoro punto va bene mi sembra un atteggiamento molto io ho bisogno di lavorare ho cinque figli ma proprio di cuore mi rendo conto adesso adesso si muoveranno gli avvocati va bene speriamo bene picchiare gli operai licenziarli assurdo io mi limito agli auguri per lei